Da consigliere comunale sto girando per tantissime strade di Taranto, del centro e delle periferie perché devo prendere nota e devo cercare di far sì che l'amministrazione comunale, i lavori pubblici si sveglino e intervengano prontamente. Strade e marciapiedi, che disperazione qui in via Giovanni Giovine, ci troviamo all'altezza di via Oberdan e guardate già la prima stranezza, qui si cammina, sembrerebbe tutto normale, tutto regolare, ma vedete all'improvviso si verifica proprio qui uno sprofondamento, cioè il livello della superficie si abbassa e quindi praticamente le persone mentre camminano rischiano di cadere, tante persone soprattutto anziane sono cadute perché il manto stradale vedete appunto sprofonda e sembrerebbe una cosa da poco ma non lo è già, si vede a occhio nudo, proprio la distanza, la differenza esistente tra questo pezzo di asfalto, di manto stradale e questo, molto ma molto più in giù, più sprofondato. Passando, percorrendo qualche metro, ecco l'ennesima buca, l'ennesimo sprofondamento, ovviamente il cliché è sempre lo stesso, arriva la polizia municipale, transenna e da mesi, mesi e mesi il quadro rimane lo stesso, non si interviene. Vi ho fatto vedere qualcosa circa il manto stradale ma voglio anche rappresentarvi lo stato penoso e pietoso dei marciapiedi, guardate qui, penso che le mie immagini siano più eloquenti di ogni parola, basta camminare, mattoni, guardate qui che si sollevano, ballano, il ballo del mattone e qui altri sali e scendi, sali e scendi, qui proprio un altro sprofondamento, si scende di livello, poi si risale, si continua a camminare, vedete qui, altri mattoni completamente sollevati e vari rappezzi di asfalto buttati così qui e lì che rendono ancora più pericoloso il transito dei pedoni, delle persone. È un'amministrazione, l'amministrazione Melucci, che fa figli e figliastri tra strade e strade. Vedete la cosa strana, qui in via Giovangiovine un tratto è stato ripavimentato, un tratto, quello adiacente a via Cesare e Battisti, poi stranamente, misteriosamente, si è fermata la ripavimentazione nel resto della strada. Vedete qui i mattoni nuovi, la pavimentazione rifatta, anche questo pezzettino qui e il resto, come dire, il buio, il degrado assoluto. Di male in peggio concludo questo mio intervento, qui un tratto particolarmente a rischio, rappezzato alla bella e meglio e proprio la ciliegina sulla torta, un altro, l'ennesimo sprofondamento del manto stradale, vedete qui, asfalto e poi evidentemente abbandono. Di tutto, di più, qui in via Giovangiovine, cittadini che pagano regolarmente le tasse, mi domando quali siano i servizi che ricevono il nulla. Le gravi carenze del sindaco Melucci, le altrettante gravi carenze dell'assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno. Lo sa, Assessore Giorno, che via Giovangiovine versa in queste condizioni? Cerchi un po' di svegliarsi invece di fare i soliti show mediatici e gli annunci ad effetto. Da via Giovangiovine è tutto. Capito, Assessore Giorno, se il suo cognome è Giorno, qui è il buio, è notte quanto ai diritti dei cittadini contribuenti.